Alvarez, Quagliarella, attenzione dalla porta opposta, Bruno Fernandes, la palla sul destro, la rete, rete, pareggio Sampa, Bruno Fernandes. Pratt con il sinistro dentro, mette fuori Gonzales e poi il destro di Bruno Fernandes. Al non scadere, l'1-1 della Samp in extremis, incredibile al Ferraris. Ancora Pedro, dentro il cross su un secondo palo, si coordina Quagliarella, Bruno Fernandes e il gol è valido, Bruno Fernandes, c'è stato un attimo di esitazione con grandi protesti. Sala, di prima per Muriel, che salta l'avversario, Muriel in area, Muriel all'indietro per Bruno Fernandes, splendida azione della Samp che alla prima occasione passa con Bruno Fernandes. Il filtrante per Torreira, corre dentro Schick, il pallone che raggiunge Bruno Fernandes, il destro, il gol, il vantaggio Sampa, si sblocca al quinto minuto, con il quinto gol in campionato di Bruno Fernandes. E che gol!